Paradoxalmente è una cessione che riempie d'orgoglio il città di Messina nell'ultimo giorno del calciomercato invernale. Il baby difensore Davide Dama, classe 2001, è stato ceduto al Bologna dopo l'ottima parte di stagione fin qui disputata sotto lo sguardo vigile di Peppe Furnari. Una partenza che consolida l'emissione del città di Messina volta a valorizzare il settore giovanile e in generale i talenti del nostro territorio. Protagonista lo scorso anno con l'Under 17 regionale di Mr. Cosimini, Dama ha vestito la maglia della prima squadra solo da questa stagione, collezionando 11 presenze tra campionato e Coppa e stupendo tutti per personalità, abnegazione e senso tattico. A fronte di questa partenza il città di Messina ha ufficializzato anche gli innesti del centrocampista Oscar Eugenio Lorefice, classe 98 ex Matera che sarà a disposizione di Furnari dalla prossima settimana, e del portiere Mario Landi, 22enne avellinese, che nelle ultime stagioni è giocato con Vulturo Rionero, Campobasso e Isernia. Domenica intanto sfida salvezza per bombare i compagni che al Desper Stadium contro il Roccella, appaiate giallorossi a quota 22, cercheranno di ritrovare il successo per interrompere la striscia negativa di 5 KO consecutivi. A dirigere la gara sarà Filippo Giaccaglia di Iesi, assistito da Alessio Mangoni e Matteo Camoni di Pistoia.